Buon pomeriggio, benvenuti. Io ho già iniziato a chiacchierare, però stavo cercando un po' di un diversivo, ma in realtà io questo pomeriggio sono qui per presentarvi questa chiacchierata che spero che sarà interessante, che ho deciso di chiamare simili ma non troppo e come sottotitolo ho scelto la biodiversità dei microbi e degli alimenti fermentati. Intanto mi presento, io mi chiamo Alessia Levante, vivo a Parma dal 2007, però sono originaria della Sicilia e ho studiato qui all'Università di Parma e ho proseguito poi con un dottorato di ricerca che ho terminato nel 2017 in scienze di alimenti e da marzo del 2020, in pieno Covid, sono diventata ricercatrice e mi occupo di microbiologia degli alimenti. La maggior parte del mio lavoro è la ricerca, però mi occupo anche di didattica. Incomincio con una breve introduzione di quello di cui parleremo oggi. Incominciamo chiedendoci che cos'è la biodiversità, perché ne sentiamo parlare tanto, però partiamo un po' dalle definizioni, da alcuni concetti. Poi parleremo degli alimenti fermentati e l'ultima parte vi racconterò come dall'unione dei microbi nasce la forza, la forza degli alimenti fermentati. La prima domanda che vi faccio è, anzi a cui rispondo, provo a rispondere che cos'è la biodiversità. È un concetto molto complesso, però io una volta a una conferenza ho assistito a una spiegazione di un professore che partiva da una domanda, diceva come sono cambiate nel tempo le vie dello shopping? Ho trovato questa bella foto d'epoca di via Cavour, anzi strada Cavour e presumo che questa foto sia degli inizi del novecento, non lo so, non ho controllato la data, però sicuramente anche fino agli anni 80, 90, forse primi del 2000, tutte le vie dello shopping di tutte le cittadine capologo di provincia erano diverse, perché c'erano dei negozi, delle botteghe artigiane, ma non solo, magari anche dei negozi che compravano vestiti, marchi di vestiti, ed erano tutti più o meno diversi, se andavate nel centro di Parma era molto diverso da quello di Napoli e da quello di, non lo so, New York, anzi di Londra, rimaniamo in Europa perché non so oltre l'oceano com'è. Invece se ci proiettiamo negli anni odierni, questi sono degli screenshot presi da Google Maps, tante strade dello shopping delle grandi città italiane, hanno più o meno gli stessi marchi, perché ci sono queste grandi catene che troviamo in tutti i centri storici e questo mi sembra un bell'esempio, cioè si è ridotta un pochettino la biodiversità dei negozi. Ora io non voglio fare nessun giudizio perché magari è comodo, se io vado in vacanza so che mi sono dimenticata il costume, so esattamente in quale catena posso recarmi a comprarlo, però in effetti se voi prendete le pagine gialle, non so se esistono ancora, però le pagine gialle di Parma, di Milano, di Torino, vedete che più o meno ci sono i stessi negozi. E ho scelto questo come esempio della biodiversità perché secondo me è semplice e immediato, è una cosa che tutti possiamo vedere nella nostra quotidianità e che abbiamo visto cambiare negli anni. Però in realtà il termine biodiversità, da un punto di vista proprio scientifico, è un termine che è nato nel 1995, quindi abbastanza recente, è l'acconiato un botanico inglese che si chiama Vernon Haywood e ha una definizione piuttosto complicata che è la seguente. La biodiversità si riferisce al complesso ecologico formato dagli organismi viventi compresi animali, piante e microrganismi, dall'ambiente circostante e dalla somma dei vari processi ecologici ad essi correlati, tra cui la diversità degli ecosistemi, delle specie e genetica. Definizione complicatissima. Però una definizione complessa per spiegare qualcosa di altrettanto complesso. Spesso quando noi pensiamo alla biodiversità ci vengono in mente queste foto quasi da sfondo del computer, la barriera corallina, sappiamo che sono ecosistemi molto biodiversi. Eppure ci sono tanti dati che ci dicono che la biodiversità è a rischio. Sono andata a curiosare un pochettino su questa pagina della Commissione Europea, che si chiama proprio Nature Nizio, quindi la natura ha bisogno di te, e riporta come negli ultimi 50 anni sono stati persi più della metà di tutti gli uccelli, i mammiferi, i rettili, gli anfibi e i pesci. E sappiamo anche che alcuni ecosistemi sono più colpiti degli altri. Ad esempio c'è stato un drammatico declino nel numero e nella diversità degli insetti nell'ambiente. Poi ci sono delle stime che dicono che addirittura entro il 2050 l'oceano potrebbe contenere più plastica che pesci in termini di peso. E addirittura un altro aspetto fondamentale è quello della biodiversità del suolo, che da solo ospita il 25-30% di tutte le specie sul pianeta ed è impicchiata. Infatti si stima che oltre il 75% del suolo del pianeta sia già degradato. Questo per non mettere nessuna preoccupazione, nessuno di noi, giusto? Però è importante prendere consapevolezza di questi temi. Infatti ancora adesso gli ecosistemi sia terrestri che marini sono alla base della nostra economia, sono alla base delle società. Più della metà della produzione mondiale dipende dalla natura e siamo un mondo dove la popolazione è in costante aumento. Quindi queste tematiche saranno sempre più critiche. Il problema vero qual è? Che gli ecosistemi danneggiati sono fragili e quindi se sopraggiungono degli eventi estremi o delle malattie, non solo malattie rivolte agli umani, ma malattie che colpiscono alcune specie di questi ecosistemi, non riescono a fargli fronte perché sono indeboliti e impoveriti. Al contrario invece se un ecosistema è equilibrato ci può proteggere, può rappresentare una barriera anche per ecosistemi correlati, vicini, adiacenti. Adesso chiudo l'aspetto ecologico generale e passo alla microbiologia perché siamo qui per parlare di microbiologia, o almeno io questo conosco e di questo vi parlo. Siamo poco abituati a pensare alla biodiversità microbica perché i microrganismi non li vediamo, per definizione non sono visibili a occhio nudo e quindi questi rappresentano una quota della biodiversità molto grande ma che spesso è sottostimata. Infatti negli ecosistemi l'intero mondo microbico rappresenta una quota immensa, si parla di più di 10 elevato 30 individui, per quello che noi sappiamo, per quello che noi conosciamo. Questo vuol dire che ci sono più batteri sulla terra, negli ecosistemi della terra, che stelle e pianeti nell'intera galassia. Quindi parliamo proprio di cifre astronomiche. Di tutti questi batteri, questi 10 da 30 batteri, in realtà noi microbiologi degli alimenti ne studiamo solo una piccola quota. In particolare, nel gruppo di ricerca dove lavoro io, ci occupiamo degli alimenti fermentati come ecosistema microbico. Che cos'è un ecosistema microbico? Adesso diamo un poco di definizioni, proprio stile Wikipedia, perché poi ogni tanto io le menzionerò, così le diamo per assodate. Allora, quando si definisce un ecosistema microbico, questo è composto da un habitat, che è il luogo in cui la popolazione microbica vive. Ad esempio, in questo alimento fermentato, l'habitat è il formaggio. Come vedete, a destra di questo habitat ci sono diverse popolazioni microbiche. Io ho riportato tre specie, c'è la specie 1, la specie 2 e la specie 3. Ciascuna di queste è una popolazione microbica. Queste tre popolazioni microbiche insieme costituiscono una comunità. Quindi la comunità è l'insieme di più popolazioni, l'insieme di più specie diverse. Questa comunità che occupa un habitat forma insieme un ecosistema microbico. E la cosa più interessante sono le interazioni tra questi microrganismi perché hanno un profondo impatto, soprattutto sugli alimenti fermentati. Un altro pochino di modalità Wikipedia, perché quando noi parliamo di biodiversità ci sembra sempre un concetto molto astratto. In realtà la diversità microbica si può misurare e ha degli impatti quantificabili. Per la misura della biodiversità si utilizzano degli indici che sono stati sviluppati dagli ecologi per descrivere ecosistemi come, che ne so, un bosco, un prato di montagna, la biodiversità del mare. Però questi stessi concetti sono stati presi e trasportati nel mondo dell'ecologia microbica. E ci consentono di valutare la ricchezza di specie in un ecosistema. Ora, è inutile che io vi dica che esistono decine di questi indici e che sono tutti difficilissimi con delle formule matematiche lunghissime, però soffermiamoci un po' sul significato che questi hanno. Infatti i descrittori principali della diversità di una comunità microbica sono la ricchezza, ovvero quante specie ci sono in questo ecosistema, e l'omogeneità. Omogeneità è una traduzione un po' pedestre del termine eveness, che è un termine inglese, ovvero noi con omogeneità intendiamo il nostro sistema è omogeneo, quindi tutte le specie sono presenti più o meno nello stesso numero, oppure alcune specie dominano la popolazione, quindi la rendono disomogenea. È un po' un concetto controintuitivo, però adesso ve lo spiego con un esempio. Anche stavolta non uso i batteri, ma uso la frutta, così facciamo un mondo delle metafore oggi. Allora, guardate questo ecosistema, è composto da mele, pere e banane, proprio basic. Possiamo dire che siccome ci sono tre diverse tipologie di frutta, è un ecosistema che ha una bassa ricchezza, ma anche una bassa omogeneità, perché se io, immaginiamo che questo sia un cestino della frutta, se io con la mano pesco un frutto, quasi sempre prenderò una mela, quindi non è omogeneo, ma è spostato verso la specie mela. Guardate adesso questo ecosistema, è composto sempre dalle tre stesse specie, però inizia ad avere un'alta omogeneità, quindi il numero dei diversi individui che lo rappresentano è più bilanciato, è più omogeneo. Il terzo esempio che vi mostro è un ecosistema che ha un'alta ricchezza, perché questa volta ci sono sette diversi tipi di frutta, però ha una bassa omogeneità, perché anche in questo caso questo ecosistema è dominato dalle mele. E invece a destra abbiamo un ecosistema che è contraddistinto sia da alta ricchezza che da alta omogeneità. Quindi in questo modo noi possiamo proprio immaginare e vedere diversi esempi di comunità a diversa complessità, a diversa biodiversità, scusate se ripeto sempre lo stesso termine, e essenzialmente quello che facciamo noi microbiologi quando siamo un ecosistema, contiamo le specie di microorganismi che ci sono e vediamo quanti individui ciascuna specie e quanto dominano o meno la popolazione. Quindi da sinistra verso destra abbiamo una biodiversità crescente in questi ecosistemi. Questi sono dei concetti ecologici che sono molto importanti, perché dovete immaginare che nelle comunità complesse, cioè le comunità, gli ecosistemi sono spesso molto complessi e hanno la caratteristica di essere ridondanti, cioè non c'è un solo individuo che sa fare una sola cosa, ma spesso e volentieri più specie sono in grado di svolgere la stessa funzione ecologica. Questo vale sia negli ecosistemi vegetali, animali, ma anche negli ecosistemi microbici. E a noi interessa molto comprendere la diversità funzionale, quindi cosa possono fare questi diversi microorganismi e la loro ridondanza, quindi se alcuni di questi fanno le stesse cose. Ora dovete immaginare che se abbiamo due ecosistemi come quelli mostrati qui in figura, quindi il primo contiene 11 diverse specie, però immaginiamo che le specie in colonna svolgono la stessa funzione ecologica, perché sono simili, vi ho cambiato il colore. Mentre la comunità mostrata nella parte inferiore possiede soltanto sei specie e alcune specie sono le uniche in grado di svolgere alcune funzioni ecologiche. Se arriva una perturbazione di questo ecosistema che porta alla perita di specie, vedete come la seconda comunità microbica rischia di perdere completamente alcune funzioni. È per questo motivo che prima dicevamo gli ecosistemi, la riduzione della biodiversità negli ecosistemi li rende fragili, li rende fragili perché ci sono meno specie che possono sopperire alla loro funzione. Adesso giuro che mi taccio sulla parte di ecologia e mi concentro di più sulla parte degli alimenti fermentati. Cominciamo con un piccolo test. Questi sono tutti alimenti fermentati. Adesso per alzata di mano sono quattro diversi prodotti. Chi di voi sapeva già che tutti e quattro questi prodotti sono fermentati? Ok vedo le retrovie. Ok. Chi sapeva che almeno tre sono fermentati? Ok. E chi invece sapeva che sono fermentati solo uno o due di questi prodotti? Ok. Bene. È bello perché così impariamo tutti qualcosa di nuovo. Allora il primo esempio che vi ho messo è un pane prodotto con lievito madre. Il pane prodotto con lievito madre è uno degli esempi più classici di alimenti fermentati. Le olive quando vengono raccolte dall'albero se non vengono frante per fare l'olio generalmente vengono messe a fermentare in salamoia in modo tale da perdere alcune componenti che non le rendono gradevoli e questo processo avviene a opera dei batteri lattici. Poi abbiamo i formaggi. Questi sono sicura che tutti sapete che sono fermentati dai batteri lattici e il cacao. Il cacao infatti quando viene raccolto ha quell'aspetto di quella pannocchia bianca e poi in seguito a una fermentazione spontanea che dei batteri rimuovono questa muscillagine bianca che ha un sapore sgradevole e poi il cioccolato segue dei processi di tostatura, frantumazione eccetera eccetera che lo rendono scusatemi il cacao segue questi processi che poi lo trasformano nel cioccolato che tutti consumiamo. Guarda il prof Antoniazzi perché sudo freddo non mi interroghi. Quindi in realtà gli alimenti fermentati fortunatamente li consumiamo anche se non siamo consapevoli del fatto che lo siano e da un punto di vista tecnologico si definiscono tali quei prodotti che sono ottenuti attraverso lo sviluppo di microrganismi desiderabili che sono in grado di convertire la materia prima grezza quindi quella che noi sottoponiamo a fermentazione utilizzando delle componenti enzimatiche dei microrganismi. Considerate che gli alimenti fermentati sono antichi quanto la storia dell'umanità. Questi prodotti sono frutto di processi naturali e li consumiamo perché offrono un'esperienza sensoriale per noi gradevole ma hanno anche numerosi benefici per la salute. Quello rientra nella categoria dell'esperienza sensoriale. Anche il cioccolato. Come hanno origine questi alimenti fermentati? In realtà è stata una delle prime tecniche di conservazione utilizzate dall'uomo e risale proprio all'inizio della civiltà. Troviamo alimenti fermentati nelle antiche piramidi, tracce ancora più antiche, resti di ominidi che intanto vengono ritrovati, analizzano il contenuto dello stomaco e trovano tracce di alimenti fermentati. Quindi sono antichi quanto la storia dell'umanità. Originariamente lo scopo della fermentazione era quello di prolungare la vita dei prodotti, quindi renderli conservabili più a lungo delle materie prime che altrimenti erano deperibili. Pensate al latte, classico esempio, ma anche la carne e i vegetali. Adesso gli alimenti fermentati sono apprezzati nella maggior parte della popolazione direi soprattutto per le loro caratteristiche di consistenza, di sapore e di aroma che vengono rilasciati dall'azione dei microrganismi. Però considerate che questa è una visione un po' occidentale della questione. Infatti noi sappiamo che nei paesi sviluppati, più che paesi sviluppati dovrei dire nei paesi occidentali, circa il 20% della dieta è composta da alimenti fermentati che noi scegliamo di consumare per le loro qualità organolettiche. Però nei paesi in via di sviluppo e nei paesi asiatici dove c'è una grande cultura relativa agli alimenti fermentati, la percentuale, l'introito con la dieta può superare anche il 50%, anche perché nei posti dove non sono disponibili molte tecniche di conservazione per garantire la sicurezza alimentare dei prodotti, la fermentazione può offrire una maggiore sicurezza perché riduce la possibilità che si sviluppino microrganismi patogeni. Quindi in alcuni paesi è ancora un'esigenza e poi è una tradizione. Adesso ci sono tanti studi antropologici che cercano proprio di analizzare queste radici. Visto che noi italiani soprattutto sappiamo quanto è importante il legame con il cibo, figuratevi per quelle culture che del cibo fermentato ne fanno proprio una parte essenziale della loro dieta. Quindi se dovessimo riassumere i benefici, il perché fermentare una materia prima o un alimento, allora intanto da un punto di vista tecnologico la fermentazione migliora il sapore, può cambiare la struttura di un alimento e ne migliora anche la digeribilità perché i processi dei microrganismi effettuano una sorta di predigestione di proteine, di altri componenti. Abbiamo detto che la fermentazione inibisce lo sviluppo dei patogeni, anche dei batteri alterativi, quindi quelli che non ci fanno male però ci fanno buttare il prodotto. E la fermentazione è in grado di rimuovere o ridurre sostanze che si chiamano antinutrienti o altri composti tossici. Quindi delle volte ci sono alcuni processi, soprattutto nei paesi africani, dove la fermentazione serve a detossificare alcune materie prime che altrimenti non sarebbero sicure per il consumo umano. Inoltre la fermentazione, questi sono gli studi un po' più recenti, ci dimostrano che aumenta la concentrazione di vitamine e composti bioattivi. È una fonte di microrganismi vivi e attivi che possiamo aggiungere con la nostra dieta. Ovviamente non tutti gli alimenti fermentati. È ovvio che il pane, anche fatto con lievito madre, dopo cottura i microrganismi sono morti. Però ci sono delle categorie di alimenti fermentati che contengono ancora delle cellule vive. E infine, studi ancora più recenti, ci raccontano come il consumo di alimenti fermentati può avere degli importanti benefici sulla salute umana e ridurre il rischio per alcune malattie acute e croniche. Ci sono tantissimi alimenti fermentati, davvero. Quando io ho iniziato a lavorare nel gruppo di microbiologia degli alimenti provenivo da studi diversi e ho scoperto un sacco di alimenti che erano fermentati a mia insaputa. Quindi adesso mi piace l'idea che tanta altra gente possa scoprire che sono alimenti fermentati dove non sospettava. Tantissimi tipi di materie prime possono essere trasformati con la fermentazione, ad esempio prodotti di origine vegetale. Prima menzionavo il cacao. Anche il caffè è fermentato, anche il tè nero è fermentato. Quindi tanti prodotti che noi consumiamo beneficiano dell'azione dei nostri microbi amici. Prodotti di origine animale che forse sono quelli che in questa parte del mondo consumiamo più frequentemente, quindi formaggi, salami, anche la colatura di adici di cetara, non so se l'avete mai sentita. I prodotti a base di soia che adesso vanno molto forte anche nel mercato degli alimenti per sostituire prodotti a base di carne come il miso, il tempeh, alcune tipologie di salse di soia, quindi quelle prodotte attraverso fermentazione naturale. E altre specialità, ad esempio qui non l'ho menzionato, però noi consumiamo delle bevande fermentate come la birra, il vino. Il kombucha l'avete mai provato? Sì? Il kefir d'acqua? Se li provate a vostro rischio e pericolo, cioè a chi piacciono e a chi no. Soprattutto il kombucha, abbiamo avuto un'esperienza l'anno scorso. Però adesso ci sono tanti produttori che lo propongono sul mercato perché sono dissetanti, fanno bene, hanno dei gusti ai quali noi non siamo abituati, però sono gradevoli. E come dicevo, uno degli aspetti più interessanti degli alimenti fermentati per chi si occupa di questi studi è che ci sono adesso delle evidenze cliniche su come gli alimenti fermentati possano fare bene al nostro organismo. Sono stati fatti, considerate che la prima osservazione di questo tipo è stata fatta alla fine dell'Ottocento, dove è stata messa in relazione dello stile di vita delle popolazioni nomadi del Caucaso che consumavano molto latte fermentato con il fatto che queste persone godessero generalmente di una buona salute. Sì, esatto. Non solo, però sì, anche il kefir. E in effetti poi con gli anni sono stati fatti proprio degli studi epidemiologici, degli studi clinici e dei test su modelli animali per alcuni di questi alimenti e sono stati messi in luce i benefici potenziali. Ad esempio il kefir è stato dimostrato che può portare a un aumento della densità minerale e ossea. Oppure il consumo regolare di yogurt è stato associato con una riduzione del rischio di diabete del tipo 2. Il kimchi sembrerebbe migliorare la sensibilità all'insulina, i crauti migliorano la funzione intestinale e il kombucha, che è questa bevanda fermentata di cui vi parlavo, ha un effetto antiossidante. Ovviamente devono piacere. Ripeto, se alcuni di questi prodotti non li avete mai assaggiati e li proverete a causa mia e non vi piaceranno, mi dispiace, scrivete al rettore una mail di protesta. No, scherzo, però sono un po' diversi, ecco. Perché sono arrivati recentemente questi studi, queste evidenze scientifiche, anche se noi un po' in fondo abbiamo sempre saputo che molto di quello che ci accade nella vita alla fine va a influire sulla nostra pancia. Noi diciamo, devo fare una cosa che non mi va di fare, cioè il mal di stomaco. Oppure delle volte, se sono periodi di forte stress, lo somatizziamo sul tratto gastrointessinale. Questa era una cosa descritta un po' così in maniera puramente empirica, però le nuove tecnologie ci hanno permesso di descrivere il microbiota intestinale, quindi quei microrganismi che colonizzano il nostro tratto gastrointestinale. Considerate che noi siamo un ecosistema, prima che ho parlato di ecosistemi, lo siamo noi stessi. E il 90-95% dei microrganismi che convivono con noi si trovano proprio nel nostro intestino, in particolare in un tratto che è il colon. Ecco, il microbiota intestinale ha la caratteristica di essere un ecosistema molto complesso, è una comunità, una tra le più complesse che si possono studiare al giorno d'oggi. È anche un po' difficile da studiare perché intanto si trova nell'intestino. E poi questi batteri sono molto anaerobi, quindi è difficile coltivarli con le tecniche di cultura classica che adoperiamo noi in laboratorio. Però hanno un impatto sulla salute, questi convivono con noi perché ci aiutano ad assorbire alcuni nutrienti, sono coinvolti nella regolazione del sistema immunitario, favoriscono la modalità intestinale. E un altro aspetto che ne rende complesso lo studio e limita un pochettino la nostra capacità di fare astrazioni generali è il fatto che questo ecosistema è molto variabile, c'è un'alta variabilità interindividuale. Questo ecosistema cambia durante la nostra vita, cambia se siamo soggetti ad alcuni tipi di terapie mediche, eccetera, eccetera. La cosa importante che ci dobbiamo ricordare è che dobbiamo mantenere felice il nostro microbiota, dove per felice intendo biodiverso, in salute, scegliendo una dieta varia che sia ricca di fibre e che contenga probiotici e prebiotici. Ora io nella mia quotidianità non mi occupo del microbiota intestinale, ma l'ho menzionato semplicemente perché non posso parlarvi di alimenti fermentati senza spiegarvi dove potenzialmente questi microrganismi vanno a finire, va bene che vanno a finire nella nostra pancia, però alcuni finiscono anche nel microbiota intestinale. Infatti nell'intestino umano sono presenti dei batteri lattici ad esempio, che sono dei microrganismi comunemente impiegati per le fermentazioni alimentari e si dividono in due categorie. Ci sono quelli che hanno una presenza subdominante nell'intestino, ovvero quando noi consumiamo un alimento che contiene questi batteri lattici, questi microrganismi passano nel nostro gastrointestino, ma non prendono la residenza, diciamo. Invece ci sono alcune specie di batteri lattici che si sono adattate per colonizzare il tratto gastrointestinale umano e in questo modo riescono a risiedervi per più tempo. Quindi diventano proprio parte di questo complesso ecosistema microbico. Infatti molti batteri lattici hanno la caratteristica, alcuni batteri lattici sono definiti probiotici, non tutti i batteri lattici però. Infatti tra i microrganismi, quelli che poi vengono etichettati come probiotici, quindi che noi li acquistiamo nei prodotti dove c'è scritto contengono probiotici, devono avere delle caratteristiche. Ad esempio devono essere in grado di resistere, di sopravvivere nel tratto gastrointestinale. Devono quindi resistere al processo della digestione, resistere all'acidità dello stomaco, ai sali biliari e arrivare vivi nell'intestino. Poi devono avere delle caratteristiche di adesione, quindi devono avere delle proteine sulla loro superficie che li fanno aderire alle cellule epiteriali intestinali e talvolta possono essere equipaggiati della capacità di produrre delle sostanze antimicrobiche che li aiutano a rimanere in questo ecosistema complesso, a non essere soverchiati dagli altri microrganismi. Questo perché ve lo dico? Perché non è che tutti i batteri di tutti gli alimenti fermentati sono probiotici, ma sicuramente mangiare alimenti fermentati aumenta la possibilità che ve ne mangiate anche uno probiotico e fornisce anche agli altri microrganismi delle molecole che li aiutano a crescere meglio. Quindi in generale sono benefici per questo motivo. Considerate che ho preso un lavoro di un gruppo italiano, un gruppo metà di Bolzano, metà di Napoli, sono dei colleghi molto bravi, che hanno provato a spiegare qual è la diversità dei batteri lattici nel microbiota intestinale e la loro frequenza negli alimenti. questi colleghi praticamente hanno trovato online, ci sono dei database pubblici, un sacco di informazioni sulle sequenze del microbiota intestinale delle persone e dei genomi dei batteri che sono stati isolati dagli alimenti. E hanno fatto un confronto enorme, hanno analizzato un qualcosa come 189.000 campioni. Ovviamente sono tutte analisi fatte al computer, queste qui non sono analisi di laboratorio. E hanno scoperto che la composizione del microbiota intestinale è influenzata soprattutto dall'età, infatti il microbiota cambia nel tempo, dallo stile di vita. Infatti hanno dimostrato che c'è una netta differenza tra individui che hanno uno stile di vita occidentalizzato e quelli che invece no, quindi che vivono in altri continenti e quindi la geografia, quindi il continente in cui l'individuo cresce. E si vede bene da questo grafico che è un po' complesso, ma io ho provato a sintetizzare le cose che mi interessavano. Loro vanno a vedere quali dei lattobacilli sono prevalenti, in base al tipo di dieta, quindi vedete westernized, quindi dieta occidentalizzata, a sinistra sì e a destra no, e in questa colonna ci sono i microrganismi che sono associati con gli alimenti. Quindi si vede proprio una netta distinzione rispetto agli alimenti consumati, diciamo, dalle due diverse categorie di popolazione e come questi colonizzano l'intestino. Quindi alla domanda, questi microrganismi possono arrivare nel nostro intestino? La risposta è sì. E hanno fatto degli altri studi, infatti hanno poi visto quanto sono diversi i microrganismi di questa specie. Io prima cosa vi ho detto che è una comunità microbica e l'insieme delle popolazioni, quindi delle specie che gli appartengono. In realtà con i microbi noi abbiamo un grado di complessità un pochettino superiore, perché anche gli individui delle stesse specie possono essere un po' diversi gli uni dagli altri. E vi ho preso l'esempio di Lacticase e Bacillus casei. È un microrganismo che è molto spesso utilizzato come probiotico. Avete presente quelle bottigliette, quelle piccoline che si bevono a colazione, non farò il nome del marchio? Ci sono più marchi. Quasi tutte, se andate a vedere l'etichetta, contengono ad esempio Lacticase e Bacillus casei. E quando i ricercatori sono andati a guardare quali ceppi ci sono sia negli alimenti che nell'uomo, hanno trovato questo grafico difficilissimo. Ora non ve lo spiego perché è veramente complesso e mi incarto pure io, però se voi immaginate la biodiversità di questi microrganismi come rami di un albero, vedete questo albero quanto è intricato, quanto è complesso. Altre specie di batteri lattici hanno degli alberi con un po' meno fronde, quindi sono un pochettino meno biodiversi. Ed è importante perché noi questi microrganismi li troviamo sia negli alimenti che nel nostro tratto gastrointestinale e quindi gli alimenti fermentati sono benefici perché aumentano la biodiversità del nostro microbiota. E torniamo all'argomento di oggi che è simili ma non troppo. Ora io fin qui ho parlato di ecologia, di microbiota umano, anche se non avrei voluto, però poi il tema mi affascina, quindi mi sono un po' persa. Parliamo di fermentazione perché a questo punto mi sembra il caso. La fermentazione come si fa? Generalmente quando si fermenta un alimento si mettono insieme dei microrganismi, in inglese si usa il nome starter, ve lo dico ora perché poi lo utilizzerò in seguito, la materia prima, poi si applica della tecnologia e la combinazione di questi tre fattori, più dei fattori estrinseci, quindi la temperatura a cui noi mettiamo, l'umidità dell'ambiente di stagionatura, portano insieme al tempo a ottenere un prodotto fermentato. Ci sono prodotti a fermentazione breve, lo yogurt, poche ore, ci sono prodotti che hanno fermentazioni lunghissime, parmigiano, reggiano, minimo 12 mesi di stagionatura fino a quanto volete voi. Quindi il tempo è un fattore chiave. Noi come microbiologi di solito distinguiamo gli alimenti fermentati in tre classi. Abbiamo gli alimenti fermentati senza starter, quindi vuol dire che sono una fermentazione spontanea ad opera dei microrganismi che contaminano la matrice. Poi ci sono dei alimenti che vengono prodotti con degli starter selezionati, quindi sono degli starter commerciali che le aziende acquistano per produrre degli alimenti fermentati. A metà fra queste due soluzioni esistono quelli che si chiamano starter indefiniti. Questi starter indefiniti si basano sul principio del reinoculo, ovvero io quando faccio una fermentazione conservo una parte della lavorazione per utilizzarla come inoculo per il giorno successivo. È un po' il metodo con cui si fa il lievito madre, che voi dovete sempre aggiungere acqua e farina, poi ve ne tenete una parte, il resto ci fate il pane, la pizza, quello che volete. Questo è chiamato in inglese back slopping. Non si usa solo per il lievito madre, in realtà ad esempio è caratteristico della produzione di grana padano e parmigiano reggiano, anche del kefir. Il principio è lo stesso, ci sono questi granuli che vengono spostati in un recipiente di latte nuovo e inoculano la fermentazione. È lo stesso principio dell'aceto balsamico, solo che nell'aceto balsamico la comunità microbica è dentro la botticella dell'aceto, è l'aceto che si sposta, ok? Ed è il contenitore che fa da inoculo, se vogliamo. Quindi è un processo utilizzato anche per prodotti che conosciamo molto bene. In questa categoria i formaggi sono, diciamo, la mia fissazione, no scherzo, lavoro su una microbiologia dei formaggi, quindi vi parlerò un po' di questo più nel dettaglio. Perché ci piace il formaggio? Perché ci piace il gusto del formaggio? Allora, la parola gusto, la sensazione del gusto è dovuta a due fenomeni diversi, è la combinazione del sapore, ok? Che è quello che noi percepiamo con la lingua, e l'aroma che è quello che noi percepiamo con il naso. Quando mangiamo un alimento la combinazione di sapore e aroma ci porta a percepire un gusto che ci piace. I formaggi sono un po' elusivi dal punto di vista del gusto, perché sappiamo che ogni formaggio ha un gusto unico. E la cosa bella del gusto del formaggio è che spesso i formaggi condividono dei composti simili, ma è l'equilibrio variabile di queste molecole chimiche che dà un gusto diverso ad ogni tipo di formaggio. Cioè noi sapremmo distinguere il gusto di un parmigiano dal gusto di una gorgonzola, ma non c'è la molecola del parmigiano e la molecola del gorgonzola. Sembra una cosa banale, ma non lo è. Immaginate che per altri composti chimici noi sappiamo quali sono le molecole. Ad esempio l'aroma della vaniglia è dato dalla vanillina. Se voi estraete la vanillina e l'aggiungete a un composto per voi avrà il sapore della vaniglia. Esistono altri esempi di molecole, invece per il formaggio non è così. Non c'è un solo composto che contribuisca da solo al sapore del formaggio. E questo per noi microbiologi è la svolta, perché così per noi c'è un sacco di lavoro da fare. Nessuno può trovare il batterio che fa un solo composto, lo mette dentro ogni formaggio e crea un formaggio identico. Sto scherzando, però in realtà noi sappiamo che c'è una combinazione unica di batteri. Io lavoro soprattutto sui batteri, ma anche lieviti e muffe che insieme alle tecnologie di produzione creano dei formaggi dalle caratteristiche sensoriali molto diverse e riconoscibili. E c'è una grandissima diversità. Questa è una bella mappa che avevo trovato con l'albero della diversità, degli aromi dei formaggi, poi il raggruppamento un po' anglosassone, diciamo. Si potrebbe un po' disquisire su questo. Come vi dicevo, noi abbiamo la fortuna, noi microbiologi che lavoriamo qua a Parma, non solo, dai, tutti quelli del nord Italia, di avere a disposizione un ecosistema complesso, indefinito. Infatti, quasi tutti, no, scusatemi, tutti i caseifici che producono parmigiano reggiano utilizzano uno starter indefinito complesso, che è il siero della lavorazione, che viene conservato, viene fatto acidificare nottetempo e l'indomani mattina riutilizzato come inoculo per la fermentazione seguente. Questo approccio in realtà è caratteristico della produzione di diversi formaggi DOP, non tutti i formaggi DOP, però molti lo utilizzano, e tradizionalmente queste miscele, che in realtà prendono il nome di colture tradizionali di caseificio, sono legati al territorio, ma sono interessanti perché ogni caseificio, rimanendo nell'ambito del disciplinare del consorzio, può, come dire, sviluppare, anche in maniera delle volte un po' empirica, però dei siero innesti che sono caratteristici della loro produzione. Per noi sono interessanti perché sono una riserva di biodiversità microbica da caratterizzare e preservare e possono conferire specificità ai formaggi, ad esempio dare una maggiore complessità sensoriale, una maggiore variabilità. Poi qua a Parma io so che ogni parmigiano ha il suo caseificio preferito e per lui il parmigiano che fa un caseificio è più buono del parmigiano del caseificio accanto. Quindi sono proprio un elemento per valorizzare anche i prodotti. Nel nostro gruppo abbiamo condotto qualche anno fa uno studio dove siamo andati per diversi mesi in un caseificio che ci ha gentilmente aperto le sue porte a campionare il sieroinnesto, che come vi dicevo si produce con questa tecnica del back slopping e quello che abbiamo visto è che le due specie principali che compongono il sieroinnesto, che sono l'atobacillus selveticus e l'atobacillus del brechi, si adattano diversamente al processo di fermentazione. Quindi se voi campionate il sieroinnesto in momenti diversi della sua preparazione, quindi nella caldaia oppure la mattina quando è pronto per iniziare la fermentazione, ha una composizione microbica leggermente diversa. Ma la cosa bella di questo ecosistema è che ciclicamente si riproduce sempre la stessa condizione iniziale. Quindi le specie che compongono il sieroinnesto si sono adattate in modo tale da lavorare alla perfezione con la tecnologia e consentono di avere dei risultati riproducibili anche se poi la composizione microbica del sieroinnesto ha delle microvariazioni. ma guardandolo nel lungo periodo la composizione è stabile. Un altro risultato interessante l'avevano mostrato sempre dei colleghi dell'Università di Napoli che avevano studiato il microbiota di sieroinnesti coinvolti nella produzione del grana padano, del parmigiano reggiano e della mozzarella. Ovvio sappiamo che grana padano e parmigiano reggiano da un punto di vista tecnologico sono dei formaggi simili, scusate, formaggio a pasta dura, tipo grana, cadono in una categoria merceologica simile. La mozzarella invece è abbastanza diversa. Eppure se voi andate a vedere la composizione delle specie che guidano le fermentazioni di questi tre prodotti sono le stesse, sono degli ecosistemi dominati dall'actobacillus del brechi, l'actobacillus elveticus e compare in alcuni sieroinnesti del grana padano e in quelli utilizzati per la mozzarella soprattutto streptococcus termophilus. Però i formaggi sono diversi perché le specie magari sono le stesse ma poi c'è la biodiversità tra le specie che ci regala prodotti molto diversi e ovviamente la tecnologia di produzione che è completamente diversa. Questo non ce lo dimentichiamo. La mozzarella di bufala campana è fatta con latte di bufala, il parmigiano e il grana padano sono fatti con latte crudo vaccino, quindi non sono solo i microrganismi. Però io sono microbiologa quindi vi dico che sono i microrganismi, giusto? Sempre per quanto riguarda la biodiversità dei batteri lattici vi racconto di un progetto che stiamo svolgendo per ora perché con una collega dell'Università di Bologna ci sono capitate fra le mani delle fialette di batteri lattici isolati da sieroinnesto di parmigiano reggiano nel 1970. Vedete queste fialettine di vetro? Questo è un esempio di alcune provette liofilizzate che poi si conservano a temperatura ambiente, erano state realizzate per uno studio del 1970 e poi sono state dimenticate in un angolo di un laboratorio di Bologna. Con questa collega abbiamo deciso di provare a caratterizzare questi microrganismi, abbiamo scritto un progetto e l'abbiamo vinto e quindi adesso stiamo rivitalizzando questi microrganismi degli anni 70. È un'impresa un po' ardua perché quelli stanno lì da 50 anni, molti di questi non si sono mai ripresi purtroppo nonostante le nostre grandi attenzioni. Abbiamo un tasso di successo nelle rivitalizzazioni del 10-15%, però vedete delle foto, state ammirando dei batteri di Lattobacillus Selveticus che hanno 52 anni e si riportano benissimo. A parte il fatto che non ci speravamo neanche noi che sopravvivessero, quindi siamo felici di questo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo campionato dei batteri lattici anche nel 2024, quindi batteri contemporanei e li abbiamo confrontati con una tecnica genotipica. Ora non vi sto a spiegare il dettaglio, questo è sempre un albero come quello che avevo fatto vedere prima, un po' diverso, però la cosa proprio lampante che salta all'occhio è che si formano due gruppi. Il primo gruppo è composto interamente da ceppi del 2024, tranne tre ceppi del 1970, mentre un secondo gruppo è composto soltanto da ceppi degli anni 70. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che Lattobacillus Selveticus, che è così importante in questo ecosistema, negli anni si è evoluto. 50 anni sono tanti, abbiamo un bel buco in mezzo, purtroppo non abbiamo ancora trovato nessun altro tesoro né cassetto, magari lo troveremo, però adesso la nostra curiosità è di capire se oltre a essere diversi da un punto di vista genetico, se hanno anche delle caratteristiche tecnologiche diverse. Abbiamo ancora un anno e mezzo di progetto, speriamo di trovare qualcosa di interessante. E chiudo, voglio andare un po' veloce perché vi ho già attediati abbastanza, però vi ho raccontato finora del siroinnesto. Ma prima ho detto una cosa che forse è passata un po' in sordina, che nella produzione del parmigiano reggiano, anche del grano padano, di altri formaggi, non abbiamo soltanto il siroinnesto che apporta microrganismi, ma c'è anche il latte crudo. Infatti il latte per queste produzioni non viene pastorizzato, ma viene utilizzato così com'è, quindi il latte apporta una quota di microrganismi. Cosa succede poi? Che nelle prime fasi di produzione abbiamo una preponderanza dei batteri lattici del siroinnesto, che guidano le prime fasi della fermentazione, nel tempo questi si riducono di numero e sono i batteri lattici non starter, quindi quelli che erano del latte crudo, che sono stati lì per un po' a non fare niente. Poi a un certo punto incominciano ad aumentare di numero e caratterizzano moltissimo il profilo aromatico dei formaggi. Quindi io prima quando vi parlavo di interazioni, parlo anche di queste interazioni, cioè del fatto che la successione di queste specie microbiche può ancora di più portare biodiversità, biodiversità diverse funzioni. Infatti noi sappiamo che la maturazione del formaggio è un processo biochimico complesso che avviene grazie al contributo dei batteri lattici starter e non starter. Quindi, visto che vi sto parlando del parmigiano reggiano, ma c'è una biodiversità nel parmigiano reggiano? Sì, sì ma è complicato trovarla, perché la produzione del parmigiano reggiano segue un disciplinare molto rigido, anche se poi nei diversi caseifici ci possono essere delle piccole differenze sempre all'interno del disciplinare, c'è un minimo di variabilità che viene lasciata al casaro. Però cosa succede? Che poi la fermentazione, soprattutto quando avete dei formaggi che sono tanto stagionati, se ci sono delle differenze all'inizio, grazie all'interazione tra i microorganismi, si tende verso un profilo comune. Quando si mangia un parmigiano reggiano ha un aroma caratteristico, ha un sapore, una proprietà organolettica, poi ci possono essere delle piccole differenze. Cosa succede? Che noi abbiamo avuto modo di analizzare il profilo dei composti volatili di 40 diversi campioni di parmigiano reggiano dopo 24 mesi e abbiamo provato a capire se c'è qualcosa che guida la distribuzione, il raggruppamento di questi profili volatili. Allora, prima abbiamo provato con la più classica delle classificazioni, che è quella di suddividerli per provincia di produzione, quindi Reggio, Mantova, Bologna-Modena e Parma. Vedete che più o meno si raggruppano tutti. Abbiamo usato gli stessi dati, abbiamo detto vediamo se in effetti troviamo un differenziale per l'altitudine. abbiamo suddiviso tra caseifici di pianura, di collina e di montagna, montagna al pennino però comunque sopra, non mi ricordo la quota altimetrica che avevamo scelto. Anche qui sembrano esserci dei piccoli distanziamenti ma non ci sono delle differenze significative. Guardate invece cosa succede se clusterizziamo per mese di produzione. Si forma questo cluster molto interessante, vedete che sulla destra abbiamo gennaio e dicembre, quindi mesi più freddi. Poi abbiamo in mezzo novembre, che è in azzurrino, e spostati verso la parte sinistra del grafico i campioni che sono stati caseificati tra settembre-ottobre e luglio-agosto, quindi campioni estivi. E qui osserviamo in effetti una distribuzione. Che biodiversità stiamo osservando? Noi pensiamo che probabilmente la biodiversità che osserviamo è dovuta al latte e al fatto che nei mesi più caldi non solo in generale la carica microbica del latte è un pochino più alta, ma magari vengono aggiunte delle razioni più consistenti di fieno. Ovvio che il fieno influisce già di per sé sul profilo aromatico per via di alcune molecole aromatiche del fieno, però sicuramente apporta anche una quota microbica diversa. E iniziamo ad avere le prime conferme proprio in termini di profilo sensoriale, quindi vedete che c'è della biodiversità anche insospettabile. Adesso io vi vorrei lasciare, anche perché vi ho tediati abbastanza, però con una mia idea per il futuro. Mia perché, insieme alla stessa collega degli Helveticus degli anni 70, abbiamo pensato, ma visto che questi consorsi microbici sono così bravi a fare gli aromi, a caratterizzare i prodotti, perché non proviamo a sviluppare dei nuovi consorsi microbici per prodotti fermentati a base vegetale. Perché sappiamo che c'è un trend che ci spinge a consumare sempre meno derivati di prodotti animali, quindi andare verso il consumo di prodotti a base vegetale. L'abbiamo detto, nella nostra tradizione non abbiamo tantissimi vegetali fermentati. Proviamo a vedere se usando quei consorsi che caratterizzano gli alimenti fermentati che conosciamo, possiamo sviluppare dei nuovi prodotti. Questo è un nuovo progetto che è iniziato a dicembre e ci proponiamo di analizzare tanti batteri lattici e stafilococchi delle nostre collezioni microbiche, sia dell'Università di Parma che dell'Università di Bologna, e provare a usare delle combinazioni di questi microrganismi per fermentare legumi e frutta secca e si spera sviluppare dei nuovi prodotti che strizzino un po' l'occhio a queste nuove esigenze della popolazione. E quindi vi lascio un po' di idee per il futuro. Cosa ci lascia questa chiacchierata di oggi? Intanto, secondo me, la cosa più importante è che abbiamo tanto da apprendere dagli alimenti fermentati tradizionali. C'è ancora tanto da studiare, ci sono tanti articoli, se andate sulle banche dati vedete che crescono di anno in anno il numero di studi al riguardo, anche perché le tecniche a nostra disposizione migliorano, i prezzi scendono di queste tecniche, quindi sappiamo sempre di più. Grazie a quello che apprendiamo possiamo studiare e soprattutto preservare la biodiversità con delle collezioni microbiche dedicate. Ad esempio, nel nostro gruppo abbiamo una collezione di oltre 6.000 batteri isolati da diverse matrici alimentari, quasi tutti da ambiente lattiero caseario, perché lavoriamo soprattutto su quello, e noi li conserviamo e li teniamo vivi anche per il futuro. Dallo studio della fermentazione, insieme alle innovazioni tecnologiche, possiamo inventare e diversificare prodotti fermentati in modo che rispondano meglio alle nostre esigenze, prodotti che durano di più nel tempo, che hanno un apporto per la salute, migliorato, che abbiano un sapore migliore. Quindi possiamo davvero usare queste conoscenze per fare innovazione. E soprattutto la cosa che a me piace della fermentazione è che punta verso la sostenibilità. Da una parte perché i processi di fermentazione sono sostenibili, non costano tanto, non richiedono tante energie, si svolgono a temperatura ambiente, non usano tanti reagenti chimici. E poi stiamo andando verso un nuovo trend, guarda c'è una collega che si occupa proprio di questo, di usare la fermentazione e per valorizzare anche dei sottoprodotti dell'industria agroalimentare che altrimenti verrebbero buttati. Invece noi possiamo valorizzarli e usarli di nuovo, rimetterli in circolo come ingredienti, come alimentazione magari per il bestiame. E quindi ci sono tante idee a questo riguardo. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, spero che abbiate trovato interessante questa lezione e vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi lascio il questionario di gradimento così che possiate esprimere la vostra opinione. Grazie. Mi chiedevo tutta questa teoria che lei ci ha illustrato benissimo. Come la possiamo calare nella nostra quotidianità? Cioè quando ci alimentiamo? Perché sia naturalmente per il nostro benessere. Diciamo che quello che suggerisce la letteratura scientifica è consumare più alimenti fermentati. Dopodiché, come prima lei giustamente faceva notare, non è che tutti gli alimenti fermentati hanno le stesse caratteristiche nutrizionali. Ad esempio, sappiamo che quelli di derivazione animale sono molto ricchi ad esempio di grassi. Non ne possiamo mangiare tanti. Quindi possiamo cercare di diversificare e aprirci magari a questi nuovi prodotti orientali che delle volte un po' ci... almeno a me delle volte alcuni mi colgono un po' alla sprovvista perché sono dei sapori magari diversi. Non ho ancora avuto il coraggio di provare il tempeh. Giuro che prima o poi lo faccio è... sì, cercare di diversificare il più possibile e guardare un po' le etichette nutrizionali. Ad esempio, prima menzionavamo il kefir. In realtà, se voi guardate i kefir che vendono al supermercato, girate dietro, alcuni hanno molti più microrganismi. Di solito sono quelli che non sono proprio buoni perché tanti microrganismi vuol dire tanta complessità aromatica, mentre ci sono quelli che sono molto simili allo yogurt, che va benissimo. Però magari se uno vuole provare, può cercare di trovare, non lo so, 4-5 tipi di kefir diverso e vedere se ce n'è uno che è il giusto compromesso tra mi piace, mi fa bene, quindi introdurlo nella dieta. Sì, cercare un po' di fare delle scelte alimentari mirate e poi mangiare tanta fibra perché comunque quella nutre il nostro microbiota intestinale. Quindi anche se non apporta nuovi microbi, anche se ho visto un lavoro che è uscito secondo me due mesi fa di colleghi che hanno studiato il microbiota della rucola in busta e dicono che colonizza il tratto gastrointestinale. La rucola è in busta, lo devo leggere. Perché secondo me riuscivano a comprarne tanta al supermercato. Comunque stiamo andando verso un aumento dei prodotti che sono già pronti da consumare. Cerca di evitare tutto questo. Beh, basta inserirli in una dieta equilibrata. Dico per la famosa sostenibilità, cioè per la plastica. Sì, da quel punto di vista lì sono d'accordo. Da qualche parte bisogna un po' trovare una quadra. Le chiedo un'ultima cosa intanto. Facciamo spesso uso, almeno vedo in casa mia, dei fermenti lattici che si acquistano. Ma effettivamente, visto che possono colonizzare oppure no, adesso non so quali sia il termine, ha senso? Cioè sono tutti i fermenti che effettivamente poi restano? Di solito quando compriamo i fermenti lattici in farmacia, ad esempio di solito ci vengono venduti anche, insomma li tengono in frigorifero, ci raccomandano di tenerli refrigerati, sì, di solito quelli sono microrganismi probiotici, quindi sono selezionati per riuscire a permanere nell'intestino. Invece quando mangiamo gli alimenti fermentati, una quota potrebbe essere residente, diventare residente, invece una grande quota rimane transiente, quindi passa e se ne va. Quindi quelli sicuramente sono selezionati e magari sono in queste bustine a una concentrazione per la quale ci dovremmo mangiare, non lo so, 100 grammi di formaggio e quindi... per quelli da conservare in frigorifero, gli altri invece che si acquistano schiacciando la polvere hanno lo stesso discorso. Sì, 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 sono solo conservati in modo diverso e quelli si consigliano soprattutto in seguito magari ad eventi, che ne so, dopo aver assunto un antibiotico, il nostro microbiota intestinale subisce un forte stress, allora così lo possiamo aiutare. Ma non frequentemente così, perché ci si sente più deboli? Cioè ha senso? Oppure forse è un eccesso? Beh, male non fanno. Infatti, se non ha il portafogli perché costa... Esatto, forse quello, forse il kefir costa di meno, ecco, adesso mi arriva una querela dalla Iovis, ma... Sì, perché anche lì ci sono 3 miliardi, 25 miliardi, cioè... Sì, sono in una carica molto elevata, consideri che uno yogurt ha una carica di 10 alla 8, sono 10 milioni di fermenti lattici vivi, 100 milioni, giusto? Quindi tra 100 milioni e 25 miliardi c'è un pochino di differenza. È meglio lo yogurt del kefir? No, stavo dicendo tra lo yogurt e questi fermenti lattici confezionati, cioè nel senso quello che cambia è intanto che quelli selezionati rimangono nell'intestino perché sono proprio dei microrganismi probiotici e poi quelli sono tanti di più. Quindi se abbiamo bisogno di un'azione d'urto, allora va bene assumerli. Se invece vogliamo fare un'operazione, diciamo, nel tempo di condizionamento, allora si può mangiare e assumere il kefir ogni mattina e stare bene. Non ho capito. Cioè, lei consiglia allora di prendere i fermenti lattici perché resistono di più nel tempo? Sì. Quindi quando ci sentiamo magari debilitati. Poi io non faccio la nutrizionista, non mi occupo proprio di questi aspetti, però posso dirvi che gli alimenti fermentati possono contribuire a questo aspetto. Però era giusto dire che sono delle cose un po' diverse, ecco, gli alimenti fermentati e i probiotici commerciali. Buonasera prof, innanzitutto grazie per il suo intervento. E ho una curiosità, lei per caso ha mai fermentato lei stessa dei prodotti come ad esempio, vabbè, delle verdure, piuttosto che la kombucha, piuttosto che il kefir? Allora ho avuto una breve esperienza con la kombucha, un po' fallimentare, perché dopo un po' mi sono stancata di rinfrescarla, però non è malvagia. E poi nel laboratorio noi lavoriamo molto sulle fermentazioni, soprattutto di substrati che non arriveranno mai in prodotto alimentare, ad esempio fermentiamo le bucce e i semi di pomodoro, fermentiamo alcuni scarti della lavorazione del tofu, come anche proteine di legumi, di soia, bevande vegetali. Quindi sì, abbiamo provato a fermentare un po' di tutto, sia per scopi di ricerca, che a casa un po' così per gioco. Ok, comunque sì, principalmente scopi di ricerca, piuttosto che magari alimentari, cioè? Sì, perché non ho una grande costanza. Ho avuto anche, perché ecco, gli alimenti fermentati bisogna prendersene cura, vanno rinfrescati frequentemente anche il lievito madre, io non ho questa pazienza, se volete. Però se voi volete farlo, prego. Comunque per quanto riguarda le verdure fermentate sono anche abbastanza semplici da fermentare, se eventualmente qualcuno, nel senso che contengono un sacco di microrganismi, poi mi correga se sbaglio, si potrebbero appunto utilizzare magari come alimenti per incrementare i microrganismi sempre all'interno del proprio microbiota o quant'altro, che sicuramente è differente rispetto magari alla produzione di kefir, piuttosto che, non so se sto dicendo... No, no, è vero. Allora c'è stato un gruppo olandese che ha fatto un bel lavoro di ricerca partendo da quella che si chiama Citizen Science. Cioè praticamente loro hanno fatto delle lezioni un po' così come siamo noi oggi e hanno fatto vedere una pratica per ottenere delle carote fermentate, ok? Che è una preparazione abbastanza semplice da fare. Però servono delle istruzioni perché soprattutto nell'era in cui, voi siete dei futuri tecnologi alimentari, quindi lo sapete, si trovano tantissime informazioni online, però quando si fa una preparazione alimentare bisogna avere delle accortezze per evitare di incorrere in problemi di sicurezza. Ecco, bisogna lavorare in ambienti preparati in un certo modo. Ci sono anche delle linee guida ministeriali, però appunto in questo esperimento avevano fatto vedere che avevano mostrato a delle persone come fare queste carote fermentate e poi avevano fatto fare a ciascuno la sua fermentazione e le avevano analizzate alla fine per vedere se ottenevano qualcosa di simile o qualcosa di diverso. Quindi è qualcosa che si può assolutamente fare in casa. Con le dovute accortezze, quindi preparando, insomma aggiungendo la giusta quantità di sale, barattori sterilizzati, seguendo un po' le regole, le good practice delle preparazioni casalinghe, ecco. Grazie. Salve. No, stavo pensando, non è proprio la domanda ma più una considerazione, secondo me è bello anche poter entrare in questo mondo delle fermentazioni per scostarci anche un attimo dai normali processi produttivi e poter cominciare a pensare alle fermentazioni in generale anche come per raggiungere carenze anche nutrizionali in paesi magari in via di sviluppo, il problema culturale è grande, cioè come facciamo fatica noi a accettare questi prodotti, abbiamo una grande chiusura mentale anche magari in altri paesi, è così, anzi è così, però sarebbe bello poter creare anche una campagna di conoscenza proprio per cominciare a introdurli veramente così che tutti questi composti possono, diciamo queste proprietà possono andare anche a avere proprio dei effetti benefici non solo su di noi ma anche a chi ne ha proprio bisogno. Assolutamente, ci sono, beh, io faccio parte di una cost action che nessuno sa cosa sono, nemmeno io prima di entrarci sono queste, queste associazioni di ricercatori, quindi c'è una parte accademica ma anche cerchiamo di coinvolgere proprio chi fa le politiche, chi produce gli alimenti fermentati, io faccio parte di una cost action che si chiama Pimento che ha come obiettivo proprio di promuovere la cultura sugli alimenti fermentati, quindi ad esempio mappare la biodiversità degli alimenti fermentati europei, ce ne sono un sacco che c'era una collega greca che insomma ci condividiamo questi file di Excel sui diversi alimenti fermentati, c'erano alimenti di cui non riusciva, cioè che sapeva che venivano prodotti magari in una piccola isoletta delle cicladi e basta, non ci sono altre informazioni, quindi abbiamo ancora tanto da conoscere, ancora di più da divulgare, perché comunque ecco alcuni temi di cui vi ho parlato stasera sicuramente già sono noti alle vostre orecchie, biodiversità, ecosistemi, però avete mai sentito parlare di biodiversità microbica? Quindi c'è qualcosa ancora da imparare, anche microbiota intestinale, ne avete sentito sicuramente nominare, però magari ancora c'è qualche carenza da colmare, magari con professori più preparati di me sulla materia e sicuramente sì, sono d'accordo. Buonasera a tutti, mio nome è Raffaele, allora complimenti, mi è piaciuto molto questo appuntamento, mi è piaciuto molto, mi piace molto due vocabili che lei usa spesso, che è semplice e complesso, perché a mio avviso è semplice e complesso, è uno stimolo per creare nella criticità delle evoluzioni che secondo me delle altre specie, in un ateneo che si chiama natura, già questo viene portato avanti. Allora, le mie domande sono fondamentalmente tre. La prima è che siamo già arrivati a questo, cioè è stata fatta una capsula dove per superare quello che è la barriera degli acidi gastrici riesce ad arrivare al microbiota e quindi a sviluppare nella potenzialità del fermento quello che è la potenzialità dei nostri tre cervelli. E questo che è molto interessante. Poi ultimamente c'è un'evoluzione, siccome il Sapiens vive in una società altamente inquinante e ne stiamo subendo delle conseguenze anche in questo momento, ma noi dobbiamo passare ad altro, no? Giusto? Allora che cosa succede? Che è stato fatto e portato avanti non solo un'esperimentazione, ma un'evoluzione dal punto di vista medico-scientifico e predittivo sul trapianto fecale, no? Che è molto molto interessante. Io chiedevo un'ultima cosa. Potrebbe esserci, sappiamo che nella letteratura scientifica le scoperte tante volte sono venute a caso, no? Tante volte addirittura con degli errori si sono accese delle lampadine. Ecco, potrebbe esserci, visto che diciamo le grosse problematiche non sono presenti ma future in una popolazione di 9 miliardi e mezzo, 10 miliardi nel 2050 e prevalentemente, specialmente in occidente, di persone anziane perché si allunga la vita, una cosa e l'altra. Arrivo al punto della domanda. Considerare quello che è un discorso di questi fermenti dal punto di vista di emodinamico, cioè praticamente una formulazione o quello che è una formazione di alcuni elementi che vengono, visto che è stato fatto il trapianto fecale, no? Inserire questo dal punto di vista ematico e portarlo, questa è un'opinione naturalmente che le chiedo, no? E portare questo discorso a creare sapi un pochettino più, perché l'alimentazione, guardate, io ho tantissimi anni, quando ero bambino io c'erano molti anziani, 100, 105, 10 anni, ma erano selezionati, no? Oggi è vero che la vita media si è allungata, ma è anche vero che noi abbiamo dei soggetti che hanno 60, 70 anni, sono dei farmacodipendenti, 10, 12 pastiglie, oggi il 30% degli adolescenti ha problemi di glicemia, quindi rende il sapiens molto fragile in quello che tutto viene circondato. È chiaro che la big farm nel fatturato ne crea dei vantaggi. Allora potrebbe essersi, mi ripeto per spiegarmi meglio, una possibilità di creare un insieme di fermenti dove questo iniettato dal punto di vista ematico porta a irrobustire o a rinforzare quello che è il nostro sistema di difesa. Grazie. Grazie per la domanda, è molto sfidante, ok, perché in effetti apre una prospettiva anche eticamente un po' complessa. Diciamo che non credo sia possibile attraverso il flusso ematico, però sicuramente ci sono delle tendenze relative al fatto di trovare delle miscere di microorganismi che appunto un po' in linea con il trapianto fecale, però un trapianto fecale tra virgolette artificiale, cioè quindi avere a disposizione, cioè capire bene qual è la chiave di volta del nostro microbiota intestinale con tutta la sua complessità e magari offrire delle soluzioni di medicina personalizzata e questo è quello di cui si parla nel futuro. C'è stato da poco un esperto statunitense che ha fatto una conferenza qui all'Università di Parma e insomma gli abbiamo fatto delle domande, lui si occupa proprio di microbiota intestinale e lui crede che già nel giro di dieci anni negli Stati Uniti la medicina personalizzata sarà una realtà, quindi sulla base di come noi assimiliamo i farmaci, ecco anche questo, il microbiota intestinale ha un ruolo importante in come noi metabolizziamo i farmaci, quindi magari i dosaggi possono essere modulati sulla base delle caratteristiche individuali, questo è il futuro. Tra l'altro, ma qui andiamo proprio nel campo della fantascienza, però una delle ultime tecniche per la modificazione genetica degli organismi che si chiama CRISPR-Cas viene proprio dai batteri ed è una tecnica che adesso si utilizza molto per la ricerca ma ci sono stati anche dei gruppi molto controversi in Cina che l'hanno utilizzata proprio per modificare geneticamente degli embrioni umani, quindi se vogliamo ritorniamo un po'. Ovvio che queste sono applicazioni estreme, però io credo che le tecnologie del DNA ricombinante non applicate sull'uomo ma sui microrganismi, ad esempio sulle piante, possono rappresentare una risorsa per accelerare un pochettino questa evoluzione forzata sulla quale ci troviamo, c'è un mondo sovrappopolato, sovrappopolato no, però insomma dove c'è una distribuzione forse poco equa dei nutrienti, delle risorse, io ci credo, ci spero. Ovvio che poi quando ci sono delle grandi possibilità scientifiche vanno regolamentate bene, bisogna mettersi a sicuro da eventuali stranezze, diciamo, ecco. Grazie a lei. Se non avete altre domande io vi ringrazio e della pazienza, grazie. Grazie. Grazie.